E' venuto fuori dal tripling 1-2 e poi ha tirato questo grande giro. E' venuto il tocco largo per Ronaldinho, può puntare stancho in giro, attenzione a Ronaldinho, mette dietro per Sadorf, che gola, Clarence Sadorf, l'emmesimo assist di Ronaldinho, più di tutti adesso in Serie A. E' se ha i compagni una volta, devi tirare in porta. Stankovic cerca la porta da centrocampo! Stankovic da centrocampo! Prova di guarda qua come rallenta, come lo so cosa, accelera. Non la prendeva più, non la prendeva più un gol monto. Uno scappione bellissima, Luciaano dentro, tre brocce, uscita di Andupa. Prova Marcolini! Un gol pazzesco di Marcolini! Che riscatta il rigore fallito, riporta in vantaggio il Chievo! Bellissimo! Di Basta verso il momento di torrivo, stella luna stessa! Supercardi di Basta! Contraminato! Il settimo minuto! Stine Gela apre sulla destra E il cross dentro a cercare De Senna Super goal di De Senna Goal straordinario Scusi Mascara! Un gol bellissimo di Mascara per il pareggio del Catania E colperà tutto il stato abbiamente ripagato Della sfortuna che aveva avuto in quel genio La Moranesi a Mauri 4 a 0 Ha schiacciato, lo hanno fatto un buco lì nell'aria 45 a meglia dimostra di non essere malaccio con i piedi E con un preciso passaggio pesca Mestre Il laterale di Gasperini salta secco Cicari E libera un sinulo violentissimo De Santis resta immobile, pallone in rete Geno in vantaggio Grande prudenza di Gian Domenico Mestre al primo gol con la maglia del Geno E al quarto con Serie A Potentissimo fisso destro da 25 metri E Santis non ha nemmeno il tempo per provarci Rimonta completato Genoa 2 Napoli Per merito anche Vigiamonta di testa Vucicic Reto, Vucicic Faro Mennac-Naccio è stato sorpreso a Vio Cesar Una parabola che ha spennato e la portiera dell'Inter E la Roma la fredicesima è mandato Tuttavia ha provato il settimana scorsa con questo gruppo di testa Con questa promozione a trovare il tempo sui difensori E questo non ha provato il gruppo di testa a sorprendere Giulio Cesar Per relle sentiamo Mortone Per la Nascelle Intorno a di Alcic verso Lazzi Per di Alcic verso la mezzi Che è scivolato Marona 1-0 Napoli E' il boccio La notteciare E' un giocatore che fanno la differenza In questo caso è Lavezzi Che è forte della sua destra Che è la sua troppo di velocità Ha fatto seguire parola E' ritagliato lo stato per il tiro E' che sta volendo